Ancora un episodio di violenza nel centro storico di Avellino. Due adolescenti sono stati picchiati e rapinati da altri due ventenni residenti nella provincia. Non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione. Intorno alle 21 di ieri i due ragazzini di 14 e 15 anni stavano percorrendo Piazza Libertà per dirigersi verso Via Nappi quando sono stati avvicinati dai due ventenni che pur senza conoscerli hanno iniziato a dare loro spinti e provocarli con minacce verbali. I due di fronte alla protesta dei ragazzini li hanno afferrati per i capelli tirandoli con violenza e tenendoli per il bavero li hanno spinti contro un muro. Hanno cominciato a picchiarli violentemente schiaffi, pugni e calci per sottrargli denaro. Uno dei due ragazzini sotto sciocco ha estratto il portafogli e lo ha consegnato ai due rapinatori che dopo aver afferrato il denaro sono scappati via. I due ragazzini feriti e sanguinanti hanno chiamato i genitori. È partita la richiesta di aiuto al 113. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivate due pattuglie della polizia già presente in zona per il servizio di controllo del territorio. I ragazzini sono riusciti a dare una descrizione dei due rapinatori e sono scattate le ricerche. Poco dopo i due malviventi sono stati fermati poco distante da dove era accaduto il fatto. Condotti in questura sono stati avviati gli accertamenti. I due sono risultati già gravati da precedenti penali per i reati di lesioni, resistenze e d'addengiamento. Al termine delle indagini sono stati dichiarati in stato di arresto con l'accusa di rapina in concorso. I due adolescenti invece sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure, hanno riportato lesioni e contusioni al volto. I rapinatori invece si trovano ristretti nelle celle di sicurezza della questura in attesa della direttissima in programma per domani mattina.